Los Angeles a Monte Sant'Angelo. Il circuito del Contemporaneo per il Festival Michael ha deciso di portare un progetto, direi anche trendy, per questo centro della spiritualità. Colette Miller è una delle più grandi street artist, performer, un'artista che lavora proprio sul concetto delle ali d'Angelo. Ali d'Angelo con cui il pubblico, i visitatori, i pellegrini di questo splendido centro garganico potranno interagire. Quindi un progetto popolare perché l'arte contemporanea deve essere inclusiva, deve parlare e questo progetto parlerà a tutti.